Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sono Gerardo del Team Game e oggi saremo di nuovo in compagnia di Giuseppe Buonasera Se eravamo rimasti al sesto capitolo Sesto episodio Giusto Dobbiamo iniziare il sesto capitolo Perché come degli stronzi La volta scorsa non ci siamo accorti Io non mi sono accorto Che era finito il capitolo Quindi non fa niente Dobbiamo trovare gli oggetti Tra cui uno l'abbiamo già trovato Giusto Infatti Non è questo Ok Ora uscirà qualcuno di qua perché questo già l'abbiamo fatto Sì Eccolo lì Ciao piccolino Muori Tranquillo tranquillo ok Uno sementario Wow Non abbiamo più munizioni Mando i robottini Giusto come si fa Mando adesso Con 3 Però non adesso Mando adesso Aspetta fammi vedere un po' Ok Ok Allora la piloteremo in remoto Si è andato Eh mandi i robottini Come si mandava mi mi si è dimenticato Cioè la disciplina di direzione Vai in la disciplina di direzione Aspetta aspetta dove 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 Speriamo Grande Comunque Come si faceva Eh ma adesso Cioè come lo spazio Ah giusto giusto Credo Si Benissimo Dai carino Andiamo Sì c'era un'inizio Ok E qui c'era Da qui uscivano quelle che sullevano Quindi Ragazzi non fateci caso Questi rumori ambigui ma Non ci sono più niente Perché il nostro cane È tanto bellino Puoi stare con noi E noi non possiamo stare con noi Come sempre del gel cellulare Non mancavo Mai vabbè Devo scendere adesso Ok aspetta Vediamo se il pezzo è stato salvato oppure no No non è stato salvato Il telecomando radio Mannaggia Se vi ricordate qui Ho scelerato abbastanza Esplodevamo Così eh Wow È un cane Oh mio dio Ci vuole uccidere Come che ha Allora stai calmo Ok Con l'è Ah che è scritto là sotto Dove di una cosa C'è qualcosa di nuovo Ah appunto Nel Eccolo qui Nungle Tesla Te l'hai messo Fatto Diceve che mi ricordavo Meglio o peggio Meglio di ricarica Eh E' fin dietro Ma così dirò In quella cosa La precetta Non dobbiamo Andare a prendere Quella Merdosa Cosa Dime Sì infatti Non penso che prenderemo tanta paura perché Non so perché questo gioco non salva dall'ultimo punto Ma salva Alla random Wow Sì infatti noi dobbiamo trovare oggetti Tutte le parti Eccolo lì Ah sì Non lo puoi prendere No Cazzo Oh mio Dio ci sono salvati Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Questo gioco è trovato Grandissimo Secondo componente trovato Ok Che cazzo Lì devi pure due Capriola Superbentica Andare da Superbentica Andiamo di un'altra Eccolo l'altro Abbiamo trovato Che c'è un'altra Stima Ascenzio Sono visto Stima 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 Sì infatti Menti Ma vai Vai direttore del letto Due valli di qua E' puttana mamma di merda E' puttana mamma di merda Mi ha beccato Mi ha beccato E' mezzo 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 Non ciò Non ciò Stronzi che senza testa Non muoiono Ma ma perché Poi ho capito C'era una Ma perché Stronzi E' mezzo E' mezzo E' mezzo E' mezzo Questi passarti pezzi Ma no Ma non uscivano quelli che esparano Ma non uscivano quelli che esparano Ma perché non uscivano più Ma non uscivano più Ma non so Ma c'è il cellulare E' mezzo E' mezzo E' mezzo E' mezzo E' mezzo Wow No, rimane là Andalo uccidere Ok, metti caso Da più di me Ti vuoi E' mezzo E' mezzo E' mezzo E' mezzo No, ma c'è il cellulare Di merda Non ci serve E' mezzo E' mezzo Ok Deve prendere con l'ascensore Dove? Quale? con l'unico di produttivo sono meglio che facciamo sparare non fare niente diamo questa cosa e andiamo da quell'altra parte ma c'è un'ascensore da quell'altro luogo d'accordo si però dove dobbiamo andare? qua? qua ci dice sempre che dobbiamo andare lì siamo allerta ragazzi dovete sapere che qui oggi no perchè non so come cazzo è sto tempo di merda ma ieri c'era il sole stamattina pioveva tantissimo e ora c'è il sole strano ma vero però fa comunque freddo quindi noi ci prende sempre ma sempre 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 oh cazzo robot giocatore ok in attesa al terminale adesso possiamo andare dove dobbiamo andare lì però vediamo con l'ascensore cosa c'è niente bloccato eh prima puttana e un po' di kit medici come ne abbiamo tanti tanti questo è il telefono bastardo che non si sta mai zitto adesso non ho l'altro lo dobbiamo non so farlo no 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 fermiamo adesso dobbiamo creare il dispositivo remoto ho letto un po' di parole cioè e e sicuro si ma 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 fu il tipo di porto io non penso che es schi no es allora non 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 attiva di terminale di merda poi c'è pure il robottino ok creiamo questo dispositivo remoto wow grande potenziamo sempre questo circuiti utensile inferiore wow abbiamo aggiungere ricarica aggiungi danno cosa facciamo sono grandissima tenze di fuoco solo salpa lì puoi creare forse crea equipaggio crea equipaggio grandissimo finalmente abbiamo creato questo dispositivo ho sbagliato ho sbagliato tasto esce esce ok 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 dobbiamo andare wow wow ho sbagliato 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 non fa niente non lo so dimmi qualcosa da ho capito giusto eh ma poi adesso devi usare collega dispositivo collega dispositivo è funzionato è funzionato beh è piaciuto del trattamento ok un attimo adesso provo ad attivarla ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato è a secco ok eccolo qui ritorno 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 donna ha mai l'altro di nuovo ehi andiamo indi di nuovo dove andata giù gioco di un merto adesso ha paura di là di là ahahah mi sapevo sto stupendo un sacco bastardo molto bello si scalpesta lo scopo ah scalpesta grandissimo adesso corri io grandioso fare le copriole non c'è nessuno ok andiamo qui no dobbiamo andare qui si dobbiamo andare qui ah vedi dobbiamo andare giù perchè non lo so fai ah ecco infatti sera era un attimo bagato vado ok no dove c'è ti vedo di qua wow dobbiamo rifornire grazie grazie attiva che cazzo è ma cosa lo stai ricordando collega l'iniettore di carburante robic si si noi quasi alla fine del gioco che ancora non sappiamo lanciare oh mio dio oh perchè non abbiamo fatto caso a quel video che poi vedremo non mi preoccupate e vi spiegheremo anche come si fa una cadenza di fuoco e un danno benissimo dobbiamo mettere penso che sia questo qui ma del gel cellulare mi ha rotto non si vuol dire quella parola magica solo in momenti di panico connessione manuale richiesta ok devi andare vicino ok infatti ragguardo aggiunto attendi il completamento della sequenza di rifornimento ok eh infatti sto stronzo no dato che muoiono prima se gli tagli le braccia che se gli tagli la destra infatti maroni sono no no ma il titolo sanno infatti questo è abbastanza finita credo no no sento la lavorazione ah ok da 4 scolica ligno insomma scuola no no a costo di andare il suo simbolo in quello tipo di studio risale tono ma non la santa come te rombo un corso vaffanculo mannaggia mannaggia attivato ok se vedo il pino riprovo riprovo cosa? non lo so così va meglio ok si c'è rischio di scottarsi adesso dovevi andare qui sa me qui no devo aspettarla ah esatto credo di averci fatto la sequenza di lancio e non so come fermarla bravo vedi di neverti da lì prima di finire cotto a puntino mio dio non lo so no dice ah guarda è giunto torna non lo spalerò non è deciso di scappare porca puttana di quella oh merda dove è andato mio dio questa atmosfera del cazzo non mi piace oh mio dio cazzo devi aspettare vai adesso aspetta super capriola di ah cazzo no 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 non ti preoccupare che noi non moriamo morto pure lui oh cazzo ma perché non stano quella tua mamma no non mi piace di me cosa fa perché appena detto aspetta oh confusione oh mio dico vai mori ma questo è quello libro che devi visto farlo solo con ciao ok ciò sono io ma non gli spondi oh mio dio io sono quasi finito, prenditi il coso e ok grandissimo un danno e un caricatore porca troia no per quando non mi bruciavo oh cazzo devo risalire però ma qui non ti vuoi guarda qui ce l'ho proprio capo grazie perchè tu non muori sali cazzo scendi porca puttana di quella troia attivati ma perchè se ne scappano i non ci pensano oh mio dio sapevo che ci sarebbe ci sarebbe stato per scappare mio dio ma non mi non si che non ti fa indietro grandissimo solo tu ci mancano adesso aspetta modi porca tu voglio rifermo rifermo ok fai una capire non me la fa fare ah guarda 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 devi andare qua no ha bloccato bloccato ah devi andare qua richiamo 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 porca troia poca ma che cazzo che cazzo vattene via vattene via vattene via vattene via no aspetta sto andando nel panico cazzo ma si sta ricaricando ecco paio di bocca ma la bocca cazzo attivati cos'è devo andare a un buon mio dio dove sei andato non lo so aspetta non lo so riparare le porte lo scuola controllo ma che non lo so 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 ok abbiamo finito il il caricatore di stasi personale è da portare elementare ora perché se viene quello stronti di nuovo lo scuola lo scuola però di colpi dove deve andare adesso? ah aspetta vado 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 ci siamo salvati questo è l'importante ti prego non uscire nessuno mi dico cosa mi dice che scappa scappa adesso scappa adesso non fa niente scappa 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 ah si gel gel noi moriamo per del gel gel il gel il gel vedici che il sistema è completato completa grand wow mamma mia ragazzi chi se lo sarebbe mai aspettato eh ok ok sistema il meccanismo bloccato dove dobbiamo andare ah quello penso che devi oppure sparano no no ok penso che dobbiamo fare quale cosa mi dice che eh ah mio dio oh mio dio infatti è bellissimo ah come è bello mio dio mio dio questa è la parte più bella del secondo me tutto il giorno perché muoiono così facilmente no questi bastardi che noi dobbiamo bloccare anche ci sono porca puttana oddio è partito il conto oddio è partito il conto è partito il conto è partito ah ma che che non è 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 che cioè adesso è del gas questo punto del gioco per me ti secondo me dai ci c'è una botte, mi hai pegato ah, bello io dove dovevo andare adesso ce l'ha fatta, ce l'ha fatta andiamo a andare, lì merda, 200m cazzo elimina ok, sfataggio uscito prepara la crozier per il rientro, premizetto perchè devo prendere Z? non lo so ma noi andiamo si terra nuova a tracco spaziale bellissimo ok, vai vai queste mine però non non c'è gusto mi fanno stare al mio agio wow diciamo che abbiamo colpito 17 17 metri chiedi ragazzi ehi tu muori bastardo wow tutto cane di merda mannaggia non basta il gioco pure il cane che cazzo di ragazzo wow bene bello marchio bello stemma con le due azioni ai creatori ok qualcosa mi dice che no non è una ricarica di ossigeno ok vai sotto epic fail vaffanculo ho detto pensavo che fossero mine e so cosa cazzo fai si devi entrare cioè devi salire su e ora e ora infatti porca di quella trota no non lo so no oh cazzo ah sì ah sì allora come è messa la vetta una chiavica con tutti perché io vaffanculo cane di merda perché io ok mannaggia a me con questi bottoni di merda che non riesco ok d'accordo ossigeno ossigenami ok si è traguardo aggiunto recupero un motore da ma bordo mannaggia ma perché tutte queste sottomissioni alle missioni con il nostro mannaggia ma perché io premo B Leo fai bravo perché io premo B eh cioè non lo so qua wow non so da guarda è quello ma noi mmm andiamo di là un po' stagliamato lungo di qua cosa cazzo è successo ah forse si è eh come dire si può respirare no non lo so cioè che dobbiamo fare cazzo dobbiamo fare ok premi eh il tasso della vita qui vicino visto wow 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 era difficile vero che ho detto inizializzazione attivato sistema di trasporto dove è diventato c'è se mettere la nuova attuale ok continua ma bello tipo fregata leggera modificata alias think tank classe xc 1 2 punti 10.000 12 impulso avviso energetico attivato wow spazio pieno di frammenti di navi rotte come sempre ecco il nostro attracco ecco il nostro attracco in questo gioco tutto rotto tutto rotto ok seleziono esci dobbiamo uscire il nostro ossigeno è rimasto sempre uguale una ricerca infatti ok ossigeno di ok ecco qui siamo iniziati al capitolo 7 finalmente bene ragazzi questo sesto capitolo volge al termine ci siamo abbastanza presi in paura soprattutto quando è esploso tutto lì come sempre vi invito a mettere un bel mi piace un commento ci fa sempre piacere se non siete ancora iscritti iscrivetevi un saluto al team game al prossimo video grazie